ehi guarda quello là quel ragazzino che sta in disparte con quella strana camicia marrone il dottor savinio indicava un ragazzo alto e robusto dai capelli scuri la fronte alta e il volto serio che se ne stava solitario con i gomiti nudi sotto le maniche arrotolate appoggiati sul tavolo della locanda due spade osservando la strada trafficata di camion militari l'aria era satura dei loro scappamenti del suono dei clacson e delle grida dei sergenti